Lui non ti dice mai niente, ma è vera questa cosa, scusate la spalla, ma è vera questa cosa che Pupi arriva con dei bigliettini, sempre, poi si allontana e noi lì nell'esterno nel forso stavamo a aspettare e lui dice la cosa bella è che gli attori non mi hanno mai detto niente, ma fra di noi noi dicevamo non è scemo. Pupi è una sorta di labirinto scuro, quando credi di aver trovato la riuscita ti rendi conto di dover ricominciare da capo, è un manco che tende a stupirti, a volte ho l'impressione che stupiscono un po' anche se stesso. Lino Capolicchio! Pupi è una sorta, ho detto questa cosa, è una sorta di mago e posso raccontare un episodio che lo testimonia in maniera molto forte. Cercavo questo libro, si chiamava Demoni di Visioni Lotturne, uno di quei libri che insomma non legge nessuno, solo un passo come me. Mi dicono che questo libro è esaurito, non lo trovo da nessuna parte, sono andato a Saggiatore, a Milano, insomma erano stati pubblicati poche copie e quindi... E vengo a Roma e parlo con Pupi e gli dico guarda, io ho seguito le orle di un pittore austriaco di origine boema, molto strano, molto impietante, molto curioso, ha scritto questo libro, mi piacerebbe leggerlo. Ah, è interessante questa cosa mi dice, l'indomani mi telefona e mi dice, scusa Lino, puoi passare un attimo a casa mia? Mi presenta un libro e mi dice, è questo quello che cercavi? Di notte, ce l'aveva, dice che è andato di notte, si è ricordato che probabilmente questa cosa ce l'aveva, di notte è andato a scartabellare nella sua biblioteca e l'ha trovato. Cioè io ho detto, questo è un mago.